è sciacca a tutti gli uomini andiamo bisogna che tu mi fai entrare nel cuore di questa città facci parlare con chi comanda a lei la dovete eliminare al primo segnale di pericolo io blocco l'operazione l'ho detto tutto a mia moglie è stata una notte sola, quasi non ci conosciamo è un poliziotto della catturante i miei figli in pericolo meglio essere brullenti si può sapere che ti è successo? no catturanti lunedì e martedì alle 21.15 su Rai 1 le prime due puntate